Salve a tutti amici, come state? Spero tutto bene, anzi tutto benissimo. Oggi siamo qui con un video mukbang, uno dei miei video mukbang semplici, chiacchiericci, dove ci mangiamo qualcosa in compagnia. Non ci da me cercare di fare video mukbang troppo impegnativi, no, li facciamo semplici, in amicizia, per passare qualche minuto insieme in compagnia, in leggerezza. Anzi adesso mi tiro via anche gli occhiali perché con sta luce, ho gli occhiali blu, errore madornale aver fatto le lenti con lo schermo. Perché, vabbè, comunque, oggi, mentre ero all'Esseluca, ho trovato loro. Ah, vi vorrei dire che io sto filmando questo video alle 23.30, perché mi è venuta fame. E ho comprato oggi i papariccio, questi KitKat, green tea, matcha, al tè verde matcha. E allora le casse che stavo pagando e c'era questo prodotto, tra l'altro, caro, caro come un organo, un euro e venti. Cioè, ragazzi, un euro e venti, cosa che è una confezione di KitKat normale da dieci, due euro, cioè, se non sono squisiti. Cazzo, cazzo, vabbè. Io ho paurissima che questo video mukbang diventi un flop di quelli assurdi, perché secondo me sto coso fa schifo, ma vabbè. Come facciamo a lasciarlo lì già? Guardate che packaging. c'è una piccina adoro vediamo a cerisca da prima Allora è molto carino A parte che si sta già sciogliendo Devo fare un'immagine di copertina carina ragazzi Adesso Guarda che carino Cioè però effettivamente è molto carino Cioè non è super instagrammabile Cioè guardate Mamma mia Ecco A parte che io non capisco Cioè Si sta tutto sciogliendo Io però non capisco sta cosa Aiuto guys Allora il profumo è Il classico tè verde Tè verde buono Perché a me il tè verde piace Allora è Allora il profumo è buono Quando lo morsichi si sente molto il tè verde E sembra anche buono Nel momento in cui però incominci piano 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 a mangiarlo C'è un gusto strano, un gusto di terra Molto green, molto environmental friendly Allora il colore è molto bello Cioè ragazzi adesso devo assolutamente trovare KitKat Pink Quello è rosa alla fragola però c'è come colore super top E non gli si può dire niente Però ecco Più che altro voglio leggere C'è anche il packaging molto carino Non è così tanto asiatico Così sto grandissimo figlio della mignotta con la moto E allora c'è da dire che Questo coso qui Questa merdina qui da 41,5 grammi a 222 calorie Sconvolto Tanto chi lo raccoglierà poi quello io Yes Sono molto deluso Molto 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 deluso Ho completamente buttato un euro e venti Avevo un po' Il sentore che sarebbe stato una enorme pippa Però non pensavo così tanto una pippa Cioè Mania Ma con questo sapore Di merda Bene Io mi fermo a questi Mi fermo a 111 calorie E non 222 Perché io questi altri due kit Non li mangio Li lascerò per farli assaggiare A qualche membro della mia family Perché veramente Cioè Non so Non so Mica buoni Adesso per dirmi a questo saporaggio Mangierò qualche piccato E io devo vedere da qualche parte la Coca-Cola Ma Ah dov'è? Da Coca-Cola Mario Un piccolo avanzo di Coca-Cola Perché Mamma mia Che disagio Che disagio criptico No perché veramente ragazzi Questi KitKat Mai 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 più A Oggi mi è arrivato il mio Primissimo calentario Dell'avvento Di Essence Ho preso quello A forma di esagono L'ho preso su Cosmetic For Less Sito di disco Ehm Ho speso più di 60 euro E perciò mi hanno regalato Una bag Con tutti i prodotti All'interno Guess what? Uno di questi prodotti All'interno Era rotto Guess what? Anche il primo ordine Che ho fatto di Cosmetic For Less Aveva un prodotto Rotto All'interno Due ordini Su due Rotti Guess what? Chi non comprerà più Su Cosmetic For Less Me E peccato Che più ovviamente Non sarà l'ultima volta Però peccato Perché ha un sacco di cose Strafic C'è ad esempio Il calendario dell'avvento Di Essence O di Catrice Soltanto lui Ha un sacco di cose Molto carine Poi vende Wet n Wild Elf Milani Vende un sacco di roba Però Fica Ogni 3x2 C'è qualcosa di rotto E che cacchio O Custom Service Perfetto Perché Il primo ordine Mi avevano mandato Avevo comprato Una palette Pride Di Makeup Revolution E c'era una cialda Completamente distrutta Allora Io gli avevo mandato Le foto E loro Gentilissimi Molto efficienti Mi hanno dato Un buono Da 9 euro Da utilizzare Che era il costo Della palette In un altro ordine Perciò Per carità Customer Service 10 Mi hanno risposto Subito Molto velocemente Mi hanno chiesto Ti possiamo dare un buono Allora Io gli ho risposto So yes of course Thank you very much E loro Tieni questo codice E' un po' Perciò Bravissimi E per quello Però Cavoli Che palle E però E' anche molto carino Il fatto che Ti diano Questa pecca In omaggio In omaggio 60 euro Devi pagare Devi spendere Cioè Cosa lì Il cartello Te l'ha vinto Di Essence Perfetto Molto carino 25 euro Di Essence Ce n'è anche un altro Da 19 euro Che è però DIY Cioè Te lo devi costruire tu Loro ti mandano 24 prodotti 24 Bustine E tu Le metti dentro No A me Che non è un calendario Dell'avvento Lo faccio da solo E Poi Mi deve arrivare Il calendario Di Frosce E quest'anno Mi sono buttato fuori Non comprerò Il calendario Dell'avvento Di Makeup Revolution Perché Completamente Identico A quelli dell'anno scorso Ci sono gli stessi Pennellini Orribili Dell'anno scorso Non neri Ma rossi Lo stesso Orribilante Un specchiettino Uguale all'anno scorso L'anno scorso Nero Quest'anno Nero Leopardato Natalizio No La differenza Dell'anno scorso Ci sono Le matite labbra E Dei Rossetti Liquidi Se non ho visto male Però per il resto Tutto uguale Stessi Rossetti Stick Stesso Identico Lucida labbra Quello Nella confezione Di plastica Stessi Pennelli Stesse Palettine Forma Cambia Nuovamente I colori Però Stesse Gialline Completamente Uguale No guys No Cioè Potre Inventivo Per 36 Euro No 36 Euro Perché ne veniva Più di 50 Credo Not Day Honey Perciò Ho comprato Quelli di Essence Che mi è arrivato Mi deve arrivare Quelli di Ive Rocher Perché È preordinabile Dal 23 Di ottobre Perciò Ho Tento alla ragazza Di Tenermi Da parte Ma poi Dopo verranno Me li darà Più avanti Ecco E Poi Cosa vi Volevo Dire Anche Volevo Prendere Ancun altro Calendario Mi piaceva Prendere Il calendario Di La Degusta Box Cioè Quello Del cibo Però 33 Euro 99 Io so Già Che 24 Prodotti 20 Non li Userei Mai Perché Sono C'è Sti Purti Strai Sono C'è Sti Cose Particolari Che Neanche Loro Mangiano Perché Perché Mi piaceva Prendere Un altro Di Makeup Però Mi piaceva Molto Quello Di Asos Asos Makeup Ma 80 Euro Mamma mia Perché Le fate Così Costosi Calendari Dell'avvento Adesso Vedrò E Niente Ve l'ho Detto Se Cercate I video Non Venite Qui Insomma Video Chiacchiarici Di Due Friends Che Chiacchierano Amabilmente Senza Un Bicchier Di Vino Ma In Modo Molto Amabile E Niente Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Questi KitKat Non li comprate Perché fanno schifo Assolutamente Schifo 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 E io vi auguro Una Meravigliosa Serata Ciao amici